Allora, ciao a tutti. Siamo qui in compagnia con Alberto Bonifazio che ci ha raggiunto qua in modo virtuale. Esatto. Siamo su Zoom. Grande distanza. Esatto, tra l'altro è bello perché siamo tutti e due a Genova, tutti e due vicini. Sì, però lontani. Devi dire che parlo e parlo dall'Australia, non lo so, no? Esatto. Potevi fingere che sono una persona, un VIP, che sono... Allora, rifacciamo. Alberto Bonifazio da Sydney. È un amico di vecchia data, un pianista classico, un cantante lirico e poi basta. E basta, direi. Direi che... Già. Per chi non lo sapesse, tu sei diplomato sia in pianoforte sia in canto lirico al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, giusto? Esatto. Ok. Ok. Poi successivamente, da qualche anno, credo, ti stai, diciamo, specializzando appunto in canto lirico, che è l'ultimo tuo percorso musicale. E dove sei andato a studiare? Sì, no. Allora, io ho finito tutti gli studi, li ho fatti qua in Italia. Cioè, tra conservatorio, masterclass, le varie cose che fanno tutti. L'ho fatto tutto qua in Italia, Genova e dintorni. Poi sono andato a Valencia, ho fatto il centro di perfezionamento, la sera e domingo, che sì, possiamo chiamarla scuola, nel senso che è un'accademia, è una sorta di scuola di avviamento professionale, però io già lì ho fatto delle esperienze lavorative importanti, già proprio di lavoro vero e proprio. E poi di lì le cose sono andate sempre meglio, sono riuscito del lavoro. E insomma, per il momento, appunto, come hai detto tu, io ho iniziato come pianista, poi dopo, per un momento, ho affiancato anche il canto e poi dopo il lavoro andava bene col canto. Per il momento sto concentrando le mie forze sul canto, però in realtà il pianoforte rimane lì, ecco. La cosa più bella, adesso soprattutto in questa quarantena, che si spera sia passata definitivamente, io ho potuto veramente godere di questa possibilità di essere pianista, dire vabbè io la sera me ne suono una, mi spiego. E questo è una cosa molto piacevole, soprattutto senza lo stress del dover dire, devo studiare questo pezzo, suonarlo bene perché poi lo devo eseguire in una sala importante. Sostanzialmente lo faccio più per gioco, poi ovviamente fatto è cercando di farlo al meglio possibile e rispettando tutto quello che sta scritto sulla partitura. Certo, beh, anche il termine dilettante, no? Che in realtà viene visto in un'accezione negativa. In realtà dilettante viene da, per diletto, no? Per divertimento, cioè che è una cosa comunque nobile se vogliamo, no? Ti butto subito un input che hai detto giustamente che il tuo percorso è stato appunto di studio in Italia e poi, se vogliamo, di perfezionamento o avviamento alla professione all'estero. Credi che appunto il sistema scolastico del conservatorio, nel nostro caso, nel tuo caso, abbia qualche lacuna da questo punto di vista? Cioè, mi spiego meglio, ho visto spesso un po' una dimensione a sé stante, no? Del conservatorio. Cioè, dovrebbe forse avviare di più a una concezione del professionista, no? Perché alla fine è musicista, poi è un libero professionista, no? Guarda, io, come tu sai, veniamo dalle stesse zone sostanzialmente, ci inseguiamo un po' a vicenda, no? Prima studiavamo privatamente ed è un mondo che sta qui, diciamo. Il mondo del conservatorio sta qui ed è abbastanza scollegato e poi il mondo del lavoro sta su un'altra orbita. Nel senso che c'è veramente, io quello che ho notato, passando dal conservatorio al lavoro, è che c'è veramente uno scollamento enorme. Cioè, la scuola ti dà degli strumenti, però la maniera in cui tu te li gestisci è una cosa che impari poi con la tua pelle. Ovviamente è una cosa che riguarda tutti gli ambiti, non è che riguarda solo la musica, dici, vabbè, siamo noi gli sfortunati. No, questo vale anche, immagino, per un avvocato, vale anche per un ingegnere. Cioè, alla fine sulla tua pelle, come dire, ti fai l'esperienza. Però c'è uno scollamento veramente grande. Anzi, se vogliamo, c'è anche uno step intermedio, che è tra il conservatorio, il mondo dei concorsi e, in generale, delle... Mettiamoci le masterclass, tutto quello che è la formazione a parte, che non è né lezione privata e non è né conservatorio. Quella sta già anche su un altro settore separato. Poi, non parliamo a livello qualitativo, non voglio fare una classifica, dire, vabbè, questo sta sotto, quello sta sopra. No, in generale ci sono varie orbite, ecco, chiamiamole così. Io mi sono ritrovato a studiare varie volte le stesse cose, per esempio, studiare un compositore della letteratura pianistica, poi studiarlo nella storia della musica, poi magari doverlo ristudiare in pedagogia, non lo so, un'altra materia a caso, ecco. Tanta settorializzazione. E questo, secondo me, cioè sì, ti dà degli strumenti, ovviamente, ti dà, tu te li devi un po' riorganizzare, però crea anche un po' di confusione e soprattutto distoglie l'attenzione da quella che è la cosa più importante. È una cosa ovvia da dirsi, però è necessario sempre ribadirlo. Lo strumento, se sei pianista o chitarrista, quello che è, insomma, se sei strumentista, lo strumento è il tuo pane quotidiano. Immagina se ci fosse al conservatorio una materia proprio professionale, nel senso la gestione dei concerti del musicista, non so, a livello, quindi, i rapporti con i manager, piuttosto che un cantante, piuttosto che capacità di vendere la propria arte, di trovare concerti. Immagina se ci fosse una materia del genere. Sarebbe utile, secondo te, o...? Sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo me sarebbe utilissimo, anche se poi, comunque, rimango a dare l'idea, si possono fare tante critiche positive o negative. Certo. Però, secondo me, alla fin fine, si potrebbe aggiungere, sì, sarebbe utile, ma alla fin fine poi uno se lo apprende per conto proprio quando arriva il momento, ecco. Sì, sì. Quando sei sul momento, alla fine è un po' la vita che è così. Tu vai a scuola, ti insegnano magari a calcolare l'area del triangolo incluso in una circonferenza, però poi, come dire, che magari nella vita non ti serve, però ti dà degli strumenti che poi devi essere tu a sapere come gestirli. Secondo me quello che invece sarebbe da fare, ovviamente, fare una sorta di riassunto. Ci sono molte materie che sono veramente ripetizioni di altre, o comunque parziali ripetizioni di altre, bisognerebbe fare un po' una... Invece per ritornare al discorso cambiamento, no? Non so se ti è mai capitato, però a volte quando uno fa una cosa, svolge un compito, si ritrova per abitudine o per inerzia in una sorta di comfort zone, no? E, diciamo, uscire da questa comfort zone è, queste volte, difficile. Nel tuo caso, che sei passato appunto dal pianoforte al canto lirico, hai avuto una crisi, diciamo, della cosiddetta comfort zone? Oppure, oppure sei... hai fatto, diciamo, questa scelta, questo salto così? Easy, per dirlo. Guarda, easy, easy... Guarda, easy non lo è mai, secondo me. E certo, uscire dalla comfort zone non è mai facile. Io ti posso dire, senza voler andare a fare tanti voli pindarici, io ho avuto una crisi ancora recentemente, come credo forse molti colleghi miei l'avranno avuta. La crisi dovuta al covid. L'incertezza del non sapere. Domani potrò continuare a fare musicista? Se sì, in che modo? Devo reinventarmi? Devo integrare qualcosa di nuovo nella mia attività? Ecco, tutte queste domande mi hanno creato dei conflitti interiori. Ma d'altronde, chi sceglie la musica, chi sceglie l'arte in generale, secondo me, è già una persona comunque sensibile, è già una persona che comunque si mette in gioco. Perché essere musicisti significa mettersi in gioco, perché già il solo fatto di pararsi là, sul palcoscenico, è mettersi in gioco. Perché tu sei là e ti metti in discussione. Ti metti in discussione ogni giorno studiando e ogni giorno rivedendo quel passaggio che magari ti veniva bene, però dici, magari è stato semplicemente un caso. Fammelo ristudiare ancora perché voglio che veramente sia fermo, che anche se mi passa sopra uno schiacciassassi, io quel passaggio lo faccio. Cascasse il mondo. Quindi, esatto, cascasse il mondo, il dito va lì. Cascasse il mondo, quella nota non la stecco, cantando. Quindi ritornando al discorso comfort zone, tu dici la crisi che è proprio forse la traccia di quella comfort zone precedente. Sì, scusami, alla fine non ti ho risposto. La comfort zone per me era dire, io me ne sto bello tranquillo, non mi metto in discussione, faccio le mie cose, senza infamia, senza lode, senza pretese. Quella secondo me è la comfort zone, rimanere in un ambito e praticamente non cercare mai di espandere i propri orizzonti. Quindi ovviamente già uno quando fa il musicista esce da quella comfort zone. Secondo me, un musicista perlomeno non lo faccia in maniera dilettantistica, già deve uscire da quella comfort zone. E certo non è facile, come ho detto, ti ritrovi a far fronte a tante crisi, a far fronte a tanti sacrifici, tra l'altro, perché nella tua vita non puoi, puoi avere tutto. Ecco, infatti collegandomi ai sacrifici era proprio un'altra domanda che ti volevo fare. C'è qualche sacrificio che hai fatto che, non so, appunto in un momento ti sei accorto che le cose che stavi sacrificando forse erano di più di quelle che stavi ottenendo dalla tua arte? C'è stato un momento? Magari no, non lo so. Sì, sì. Guarda, allora, che i sacrifici fossero sempre superiori a quello che ottenevo o no? Nel senso che secondo me alla fin fine la musica ti riempie a tal modo che alla fin fine tu stai sempre meglio... cioè, come dire, stai sempre al di sopra dei sacrifici. Li superi. Quindi secondo me quello no. Sacrifici, sì, ne ho dovuti fare. Il primo è stato quando appunto sono uscito dal nido, che ho iniziato appunto a studiare in conservatorio, quindi facevo il pendolare. Quindi tu lo capisci meglio di chiunque altro, perché l'hai fatto esattamente come me, praticamente venendo dall'SS zone per arrivare nell'SS zone, quindi lo capisci perfettamente. Quello è già stato un sacrificio e collegato a questo vi è il sacrificio della vita privata, che non nascondo assolutamente, ma quante volte ho dovuto sacrificare uscite serali, che quello, vabbè, la cosa più ovvia, la cosa più banale. Quante volte ho dovuto sacrificare anche amicizie. E ovviamente anche le relazioni amorose, perché non tutte le ragazze, nel caso di noi ragazzi, o al reverse, se c'è qualcuna che sta ascoltando, che ha un ragazzo, non tutti i ragazzi, non musicisti, capiscono. A volte anche i musicisti stessi non vogliono capire se è un partner musicista. Ecco, però, insomma, anche quello ti crea dei problemi, anche nella vita amorosa. Quindi, sì, sacrifici ne ho dovuti fare. Alla fin fine credo l'unico sacrificio sia quello nella vita privata, perché poi sostanzialmente quello dei viaggi, eccetera, sono tutte questioni proprio collegate direttamente. Entrano nel pacchetto musica alla fin fine e non te ne puoi liberare. Certo, anzi, ti direi di più, anche magari entrando nel discorso viaggi, anzi, è anche bello fare viaggi, no? Questo per un musicista che per un'altra, per qualsiasi persona. Tra l'altro è fondamentale per noi musicisti, perché, come ho detto prima, siamo persone talmente sensibili, talmente... che abbiamo necessità di riempirci di immagini, di esperienze, che ovviamente ti apri le prospettive e soprattutto viaggiando all'estero ti apri ad altre culture e questo poi lo infili nella tua musica. Ma non è che neanche dici, vabbè, adesso ho visto questo, lo infili nella mia musica. No, cioè non è che... è proprio una cosa automatica, cioè il tuo essere si riempie di esperienze nuove che poi arricchiscono la tua musica. Nella lirica banalmente mi è capitato di partecipare non come attivo esecutore, cioè non... essendo proprio nella produzione, ma da spettatore, però ho avuto accesso direttamente alla produzione, dietro le quinte, di vedere la maniera in cui, come dire, il cast termina l'opera. Normalmente c'è la chiamata alle scene, uno termina e uno alla volta escono a prendere gli applausi e fine, poi tutti insieme vengono avanti, indietro, insomma, al solito fanno gli inchini, applausi, inchini, applausi, si chiude, li si pari e fine. Normalmente chiude il si pari, io magari saluto i miei colleghi, strette di mano, abbracci, baci, grande, bravissimo, eccetera, sai, solite cose, complimenti, vicenda. Ecco. E invece mi è capitato appunto di vedere questa cosa nuova, che non mi era mai capitata proprio in Spagna, di vedere il cast che si metteva a cantare. era un cast molto affiattato, aveva già fatto molte opere in giro, insomma, per varie città spagnole, e si mettesse a cantare un... non so dirti neanche cosa fosse effettivamente, sembrava una sorta di canto popolare spagnolo, tutti insieme, ed era una sorta di ringraziamento per il fatto di aver potuto fare uno spettacolo, diciamo, dignitoso, ma non perché non lo fosse, nel senso dignitoso, nel senso che loro si sono sentiti di aver fatto il loro, di aver lavorato bene, che non ci sono stati intoppi, e quindi grazie, ed era un ringraziamento che si stavano facendo a vicenda, che stavano facendo anche al pubblico, anche se in realtà il separo era chiuso, e quindi questo non andava. Quindi il pubblico sentiva cantare con il separo chiuso? Non si sentiva, no, non si sentiva. Ah, ok, ok. Cioè, non credo, io poi ero andato dietro, però non credo perché... Era una cosa inter-nos, diciamo, loro. Molto distante, sì, era tra loro, però era veramente bello, l'ho trovato molto caratteristico, e non mi era mai capitato. Appunto, a proposito di questo, ti volevo chiedere, come ci si prepara a un'opera lirica? Ci sono, vabbè, oltre alle prove, immagino, no? No, ma certo. Ma guarda, io normalmente, la mia routine sostanzialmente è dormire bene, dormire le mie otto ore minimo, mangiare, e la mia stazza lo dirà anche molto bene, insomma, a me piace mangiare, ma soprattutto quando ho una recita, perché comunque, che tu faccia un ruolo piccolo, o un ruolo grande, a maggior ragione se fai un ruolo grande, però già un ruolo piccolo, comunque, hai bisogno di mangiare per mantenere la... almeno io, per mantenere il cervello attivo, mantenere la concentrazione, e sentirmi bene, sentirmi proprio in forma. Quindi, e deve essere fatto tutto in un certo ordine. Quindi, quello sostanzialmente è il mio rito, ma è più che altro un rito di vita, perché poi è differente, ovviamente, dal pianoforte e dal canto, perché nel canto, come ho già anticipato prima, tu devi assecondare la tua voce, perché la tua voce, il tuo strumento, sei tu. Quindi tu devi coccolarti, quindi svegliarti bene, iniziare pian pianino a solleticare le corde per vedere come stanno, perché nel pianoforte, magari, invece, sto di più a studiare, magari, appunto, devo, ho necessità di stare più a scaldare le dita, e a fare un lavoro più meccanico, più digitale, lasciando per sottinteso, lasciando il sottinteso, il fatto che, che sia un'opera, o che sia un concerto, tu studi da tempo, quindi tu sostanzialmente, hai già in testa, quell'evento, da tempo in memore, quindi tu hai già, praticamente ogni giorno, hai già, assimilato la tua routine tecnica, nel senso, la tua routine meramente esecutiva, con lo studio, e con la preparazione psicologica, di dire, ho quell'obiettivo, quindi, il mero giorno, si tratta di, essere rilassati, perché se tu ti stai ancora, a preoccupare di dire, vabbè, studio, studio, arrivi al concerto, che sei, trastressato, e preoccupato, eccetera. Un'altra cosa, che, che appunto, entra nel discorso, io credo sempre, che la tecnica, almeno da quello che anche sto, vivendo io, perché poi, è una cosa di continua ricerca, no? Secondo me, credo che la tecnica sia, sempre legata, alla necessità, no? Cioè, la tecnica strumentale, deriva dalla necessità, di essere precisi, e veloci. Esatto, l'hai già detto tu, la tecnica per me, a prescindere da che uno sia strumentista, cantante, o anche direttore d'orchestra, per dire, ma anche, cioè, compositore, per dire, cioè, sono vari, vari ambiti, la tecnica cambia, perché ovviamente, deve cambiare, nel pratico, cioè, nel caso del pianoforte, è digitale, come della chitarra, è digitale, e, vocalmente, diaframma, proiezione del suono, uso dei risuonatori, cioè, ok, lì, già andiamo allo step successivo, però, prima di tutto ciò, l'hai già detto tu, l'efficacia, per me, la tecnica è l'efficacia, e il benessere, il benessere, è strettamente collegato, proprio a doppia mandata, con l'efficacia, perché se tu, stai bene, se tu sei, comodo, in quel caso, sì, devi avere una comfort zone, nella tecnica, sì, devi avere una comfort zone, è quasi, come dire, comico dirlo, però, devi avere una comfort zone lì, perché tu devi trovare il tuo range, dentro al quale ti muovi, sei, sei, stai bene, e, riesci a essere, il più efficace possibile, per quello dico che sono collegati, io ti dirò, quando sono passato dal canto a pianoforte, ho avuto delle sensazioni contrastanti, quasi ossimoriche, potremmo dire, perché, da una parte, mi son detto, la musica che leggo è la stessa, e non è che non devo cambiare niente, anche nell'ambito esecutivo, non cambierà nulla, c'è la differenza di azione, nel senso che lì devo cantare, là invece devo suonare, però, è diverso, e poi invece quando vai in concerto, parlo solamente di concerto, non parlo di opera, che lì diventi un altro personaggio, sei in scena, parlo di concerto operistico, e di, cioè, recital, parliamo di recital, recital, vocale, recital pianistico, dici, vabbè, è lo stesso, no, perché già, perché già, c'è una differenza di prospettiva, già, non indifferente, e, una cosa che magari, non tutti pensano, tu senti la tensione del pubblico, però non lo vedi mai direttamente, perché tu sei sempre piazzato, perpendicolarmente al pubblico, quindi tu, lo vedi sempre dalla, cioè, te lo vedi sempre con la coda dell'occhio, e ce l'hai, sulla guancia destra, diciamo, e comunque hai tutto il tuo corpo impegnato, nonostante il tuo corpo non sia lo strumento, lo diventa perché la maniera in cui usi il tuo corpo aziona le varie leve che fanno risuonare le corde del pianoforte, quindi sostanzialmente il tuo corpo è sempre impegnato. Quando ho fatto il mio primo concerto come cantante, è stato atroce, non atroce nel senso che sia abbia cantato male, poi vabbè, non voglio entrare nei dettagli, ma è stato il mio primo concerto, è stata atroce la sensazione, quella è stata veramente assurda, perché arrivi lì, un conto è pensarlo, un conto è poi viverla, hai il pubblico di fronte, e hai tutto il tuo corpo libero, sì che il tuo corpo è lo strumento, però ti metti a pensare, e mo' sto piede dove lo metto? La mano questa me la metto in tasca, dove me la metto? ti vengono un sacco di sindromi, di tic nervosi, dici cosa fai, dove mi metto? Quindi ecco, anche per quello poi, Pavarotti, in un'intervista aveva dichiarato, che nei concerti, nei recitalirici, avesse proprio, soffrisse molto di questo problema. Lui per sopperire a questo problema, avesse iniziato a utilizzare, il famoso fazzoletto bianco, che lui aveva sempre. Questo fazzoletto, lui stringendolo, ecco, praticamente si teneva le mani occupate, questa è una cosa che spesse volte viene sottovalutata, però ti dà, ti dà già anche questo, una sorta di ansia, una sorta di stress. Parato di tutto ciò, che paradossalmente non c'entra niente con la tecnica, però c'entra, perché qualsiasi tipo di tensione, ti crea poi delle limitazioni, nella tecnica, sostanzialmente, tu da solo ti stai mutilando, tu da solo, quindi bisogna cercare di essere il più possibile tranquilli. Per quello ho parlato di benessere, di range d'azione limitato, non limitato come potenzialità, limitato per non forzarsi, per non essere mai scomodi. Quello che mi fa pensare, più che altro che mi aiuta a trovare questo equilibrio, questo benessere efficace, è essere totalmente abbandonato, però controllando questo abbandono. Sostanzialmente, quando io mi siedo allo sgabello, come ho detto, io ho parlato di esperienze ossimoriche, perché d'altronde ci nutriamo anche di queste immagini, l'ho detto anche prima, per essere musicisti dobbiamo sempre riempirci di immagini, di figure geometriche, se vogliamo anche. L'abbandono controllato è quello, anche nel canto, perché io devo essere, devo abbandonare il mio corpo, nel senso di lasciarlo tranquillo, rilassato, per poter far sì che il mio corpo intero vibri, perché se io sono totalmente rilassato, tutte le mie cavità permettono al suono di passare, perché le corde vocali sono quelle che generano il timbro, il suono, però sostanzialmente è solamente un, come dire, è un mezzo, però è il tuo corpo che suona, quindi per far sì che questo accada, tu devi essere totalmente rilassato, però è un rilassamento controllato, perché io decido come essere rilassato, allo stesso tempo, come dicevo nel pianoforte, se io fossi rilassato, suonerei tutto moscio, invece è un come decido, quindi se vogliamo dirla tutta, un po' dappertutto, un po' in tutti i campi, strumentali, vocali, la tecnica alla fine si basa su un decentrare o come dire, cambiare il focus a quello che è l'esecuzione, cioè spesse volte uno ha un'idea, soprattutto quando inizia, che per suonare un determinato strumento si debba suonare mettendo in azione prima di tutto quello, in realtà no, spesse volte quello è la conseguenza di un'altra azione. È come se uno si lasciasse distrarre dall'asino che vola, quando poi invece non riesce a vedere appunto la tecnica in questo caso come l'immagine intera. Esatto, l'immagine complessiva, esatto. Bisogna sempre cercare una prospettiva differente, comunque, un po' sempre rientrare nel discorso del mettersi in gioco. Mettersi in gioco significa sempre cambiare la prospettiva, sempre voler guardare le mille sfaccettature del nostro ambito da vari punti. Questo ti permette di avere una visione più globale e prima o poi ti permette di capire. Poi ovviamente il tuo equilibrio non sarà mai definitivo. Almeno io quello che verifico personalmente soprattutto nel canto non è definitivo perché ogni giorno si fanno scoperte nuove, si fa magari un passo avanti, uno indietro. Per esempio questa quarantena sono stato dei giorni senza far nulla e sicuramente ho fatto dei passi indietro tecnicamente però poi quando li riprendi non è che hai perso. Magari devi semplicemente ridefinire il tuo paradigma, magari dire ok adesso l'alberto di oggi la prende in questo modo. Questo non significa che uno abbia un approccio casuale o dilettantistico. Questo determina anche un insegnante bravo da uno che non lo è. Nel senso è anche importante tramandare questo. Non è facile ottenere una visione giusta o per lo meno parzialmente corretta però ancora meno è possibile cioè è ancora più difficile far sì che questo messaggio venga tramandato agli allievi. Spesse volte se gli allievi non sono disposti a come dire non hanno gli strumenti per comprenderlo o per accettarlo spesse volte magari l'allievo si impunta tralasciando i casi in cui l'allievo non vuole capirlo ma spesse volte l'allievo si impunta e prende l'insegnamento in maniera passiva quindi come dire si fa riempire di nozioni si fa riempire di consigli senza però mai mettersi in discussione senza poi mai mettersi a dire ok il mio maestro mi ha detto che devo ripetere 50 volte questo passaggio finché non mi viene va bene ripetelo 50 volte ma con la cognizione di causa cioè attivamente tu devi dire lo faccio 50 volte sapendo che ci va questo movimento non mi rendevo conto che non era il problema non era la nota in sé che veniva male io magari ripetevo lì era che prima c'era magari un punto un po' come dire scoperto un po' complicato dove c'era un movimento di braccia non indifferente e questo mi come dire mi destabilizzava e io dovevo prenderlo da prima però ovviamente questo avviene anche un po' con la maturità certo molte volte un ragazzino può essere già maturo in questo senso se ha un bravo insegnante che riesce a far arrivare poi ovviamente quello entra anche nel talento per cambiare discorso tornando alla compagnia teatrale più in generale ti volevo chiedere se hai notato rispetto sempre in virtù di questo tuo cambiamento pianoforte canto se hai notato dei vantaggi nel lavoro di team di compagnia teatrale di colleghi oppure preferisci una carriera da solista in termini proprio che tu ti organizzi hai il tuo pianoforte il tuo mondo la tua musica ma guarda sono due cose molto differenti molto differenti una non esclude l'altra diciamo che la prerogativa del pianista è essere solista poi in realtà ho apprezzato tantissimo anche tutta l'esperienza che ho fatto come camerista un trio lì non c'era pianoforte sì mi sono trovato benissimo e poi anche lì vabbè ci sono state problematiche di gestione nel senso abbiamo dovuto poi perlomeno interrompere temporaneamente l'attività perché ognuno ha avuto poi da prendere la propria strada e ci sarei trovati poi anche distanti geograficamente il cantante ha già un bagaglio suo che più o meno impone perché comunque per quanto adesso la musica ti costringa a un dialogo maggiore cioè c'era un tempo in cui il cantante poteva fare quello che voleva ed è anche per quello che spesse volte i cantanti manco sapevano andare a tempo perché non c'era bisogno perché il cantante faceva quello che voleva eppure il direttore dell'orchestra seguiva adesso c'è un bisogno di dialogo totale c'è bisogno di una filologia totale c'è bisogno proprio della lettura più analitica più attiva possibile dello spartito e quindi anche in ambito lideristico questo questo dialogo deve continuare quindi anche il pianoforte può intervenire e anche imporre le proprie idee però in fondo in fondo non raccontiamocela il pianoforte accompagna cioè lo dice il pianoforte se il pianoforte accompagna quindi il cantante comanda comunque già solo per il fatto che il cantante ha un fiato da gestire quando si fa una produzione di opera dove si ha un cast è magico vedere che l'energia positiva o negativa a volte si contagia e quindi questo proprio irradia tutto lo spettacolo quindi se c'è uno nel cast che ha tanta energia automaticamente la diffonde all'altro qualcosa che proprio intrinsecamente avviene ed è proprio la magia in questo caso la magia dell'opera in scena insomma dell'opera lirica intesa in senso letterale in generale far musica insieme è una ricchezza ovviamente poi ci sono anche dei punti a svantaggio spesse volte si può non essere d'accordo e quindi quando sei da solo puoi solo essere in disaccordo con te stesso però difficilmente a meno che tu non abbia un disturbo della personalità insomma tu vai d'accordo con te stesso e quindi si spera quindi te la passi meglio quindi ecco bene albi ti ringrazio di aver partecipato e grazie a te speriamo di rivederci presto eh speriamo tanto abitiamo proprio a due minuti di distanza quindi insomma dovrebbe essere anche abbastanza facile dai ci sta se martedì sei libero caffettino e via vai sì ci sta così continuiamo la che carata grazie mille a te esatto ciao e ciao a tutti grazie a te grazie a te